L'incidente sulla provinciale 222 all'incrocio con la Pedemontana nella mattinata di giovedì 3 ottobre, poco dopo le 10, a scontarsi un'arancia Y con a bordo due donne che dalla Pedemontana si stava emettendo sulla provinciale in direzione Zegna e una BMW 216D con a bordo degli uomini di nazionalità cinese che proveniva ad Ozzegna. L'impatto è stato alquanto violento, sul posto si è fermata l'ambulanza di Vercelli Soccorso che passava di lì e poi sono sopraggiunti la crociossa di Castellamonte e i carabinieri di Castellamonte e Vico Canavese. Ferite in modo non grave la 67enne di Salassa che era la guida dell'Y e l'amica che era con lei, anch'essa di Salassa. Entrambe, dopo le prime cure, sono state trasportate all'ospedale di Ivrea, la dinamica al vaglio dei carabinieri. Grazie 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 Grazie